... ... ... ... ... Vedi pure nelle altre stanze, potresti che quella è quella di un'altra. Quindi intanto sono un po' lì. Certo. Ma manca la tenderia, manca molto la tenderia. Non è una locazione qriore Ma non dica una Linkedi States ulla, non è un atrovo. Vedi. Vedi. Allora. Vedi. Vedi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.